No, non crea difficoltà perché in pratica la rifinitura l'abbiamo fatta in palestra, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto nel corso della settimana. È convocato. Come sta? Se è convocato sta bene, io mica posso andare indietro a tutto quello che scrivete o quello che dite, ma voi sapete sempre tutto, vi arrampicate sui muri e tutto, oggi no però. Oggi c'erano le mani aggrappate, lo gestirò come penserò questa sera parlando con lui, come al solito, già ho parlato con lui e poi deciderò. È la squadra che è in forma, è la squadra che vuole far bene, sa delle difficoltà che abbiamo domenica dopo domenica, però è importante calarsi appunto partita dopo partita nelle difficoltà che una partita ti fa presentare, ti prospetta e domani ce ne avremo diverse perché questo Palermo è molto bravo, Francesco vuole sempre giocare e sono i giocatori più a rischio questi per un allenatore, perché poi ci devi stare molto attento perché ci sono dei giocatori che riescono a dirti esattamente no, sto bene o sto male e lui invece mette ogni volta il suo cuore, il suo essere capitano, il suo voler dare la porta alla squadra al di sopra di ogni cosa e questo a lui non va bene insomma, per cui sarà l'allenatore sempre a decidere come e quando, che è Totti, è Totti e le radio parlano, i giornali scrivono perché è Totti, se fosse un altro nome non scriverebbe perché non fa appeal, non fa vendere, non fa interessare, non fa sentire la radio, per cui è una cosa normale, il ragazzo ci ha abituato. Come procede il recupero di Lucatoni? Bene. Ci sono delle previsioni sul rientro? Io finché non viene con me ad iniziare un lavoro con la squadra, proprio neanche so che sta facendo bene, so che sta seguendo tutto il suo percorso, sta bene tra virgolette e poi vediamo insomma e comincerò a pensare a lui e a poter dire avrà bisogno di 10 giorni, 15 giorni di allenamento, 7 giorni, non lo so, quando lo vedrò e in che condizioni starà insomma. Il ragazzo è molto molto fiducioso e molto positivo e questo è importante. Quanto sarebbe disposto lei a puntare su una Roma campione d'Italia sapendo che uno dei maggiori bookmakers la dà a 22, paga 22 volte la posta? Ma non lo so, io non ho fatto mai la schedina, per cui figuriamoci se vado a fare le scommesse. Scommettete voi, devono scommettere i nostri tifosi, noi dobbiamo lavorare. Sì, ma stanno tutti bene, gli acciacchi, io non ho mai giocato una partita senza non avere nulla, gli acciacchi fanno parte dei giocatori di calcio, per cui stanno bene, si sono allenati tutti con regolarità, chi non ho fatto allenare è proprio per farlo recuperare perché in pratica non ne aveva bisogno di allenamento, per cui proprio una gestione mirata al singolo atleta. Dipende dal fatto che adesso ci sono dei giocatori che stanno in grossissima forma e come ho detto l'altra volta non è che una forma possa durare per dieci mesi, per quello che è e allora chi adesso non sta giocando deve allenarsi al massimo perché prima o poi io avrò bisogno di loro e quando saranno chiamati devono rispondere al massimo, al meglio per non far vedere nessuna deficienza nel campo. Bisogna aspettare la partita di domani, quella del Panatinoikos e poi potremmo fare un'analisi più precisa. Io dico che è stata merito della Fiorentina, però potrebbe anche essere, però vediamola, aspettiamo, aspettiamo la risposta di domani. E l'ultima, una curiosità, l'ultima nevica da Roma, se non ricordo male perché ero piccolino, segnò la rincorsa della Roma di Ericsson, uno scudetto poi sfumato con quella maledetta partita contro il Lecce, nevica anche oggi, si può tentare la rincorsa anche stavolta? La rincorsa a cosa? Allo scudetto dell'Inter. Ma siamo qua, restate con i piedi per terra, se no già scivolate voi. Andiamo. Sono contentissimo, sono felice, ho saputo che 15.000 persone sono andati a prenderlo, è bellissimo, è un ragazzo che merita tutto questo e mi auguro appunto che possa avere una continuità nel giocare perché lui ha bisogno di questo, perché lui tra l'infortunio che ha avuto e ha perso tempo, i recuperi e tutto, lui era un giocatore che aveva bisogno di giocare, per cui mi auguro che faccia veramente bene. Rientro il giocatore. Ma adesso, io appunto a domani, andiamo a vedere a giugno quello che ci sta. È un giocatore della Roma, è logico che lo seguiremo, valuteremo bene tutto il suo percorso perché è un capitale della Roma, per questo lo abbiamo mandato lì e non fatto restare qui giocare magari quattro partite, cinque partite, sette partite, non lo sapevamo. Lì avevamo la certezza che andava a giocare. Avrà giocato col motore elettrico e non con il turbo. Lì abbiamo non l'anello più debole, ma abbiamo l'anello più debole a sinistra. Stiamo aspettando Tonetto proprio con tutta l'ansia del mondo. A destra ce n'abbiamo due e siamo contenti. Sta facendo passi da gigante e spero veramente che al momento giusto sia pronto. È la più importante. Poi col Panatinoikos sarà la più importante. Ogni partita è la più importante. L'abbiamo detto tempo fa, sono tutti esami per la Roma e gli esami non finiscono mai. Ma ogni partita per noi vuol dire tanto. Noi proprio vogliamo lottare contro noi stessi. Il Palermo, tolta la partita che ha perso negli ultimi minuti a Bari, era da novembre che non perdeva. Ha fatto ottimi risultati dappertutto. È andato a vincere prima di Natale 2-0 con il Milan. Ha fatto 0-0 con il Napoli. Ha pareggiato 1-1 a Genova con la Sampdoria. Ha battuto la Fiorentina. Insomma, è una squadra che sta in salute. È una squadra che è molto pratica, molto determinata. Ha giocatori di qualità là davanti come Miccoli Cavani. Ha questo gioiello che è un vero gioiello pastore. Ha Liverani che organizza il gioco. Ha Delio Rossi che è molto navigato, molto esperto e conosce la Roma come le sue tasche. Per cui ci sono tutte queste difficoltà. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Non possiamo paragonare l'uno con l'altro. Possiamo dire che Jovetic è un giocatore che gioca là dietro la prima punta. Allora potrebbe avere le stesse caratteristiche. No, ogni giocatore ha le sue caratteristiche che determinano proprio il campione. Questo è un campione, un campioncino. E il campionato italiano gli farà sicuramente bene. Sempre Zamparini ha detto che la Roma del Palermo deve temere le giocate, il collettivo e l'allenatore. Lei come risponde? La Roma del Palermo, sì, ha ragione. Zamparini è un grosso intenditore di calcio. Staremo attenti apposta a queste cose qua. E il Palermo cosa deve temere della Roma? Che glielo vado a dire io allora. Che glielo vado a dire io allora.